Immaginate un'app per dare un voto ai professori. Bene, ora c'è! Chi è questo figlio di Bottana che si è inventato a questa? Tuo figlio. Mio figlio? Scrive 30 e cancella la tua città. Grazie professore. Dal latino gratis. Dal 3 ottobre l'università non sarà più la stessa. Il lavoro cancella i vizi generati dall'ozio. Ma di chi è di Seneca? No, di Seneca. Ragazzo ha le consegne. La rete è in filosofia. Tutto a posto. Al cinema.